Non è una sperimentazione per una via Mazzini di nuovo pedonale? Assolutamente no, sono quello che si è battuto di più contro quella chiusura, ma in certi casi due giornate festive e due prefestive possono anche vedere questa chiusura. Nessuna sperimentazione, nessun ritorno al passato alias non troppi mesi fa e quindi nessun progetto di pedonalizzazione di via Mazzini atto secondo. Le modifiche temporanee alla viabilità presentate questa mattina dall'assessore del commercio del comune di Trieste, Lorenzo Giorgi, saranno necessarie per l'organizzazione dell'evento Piazza Europa in programma dal 22 al 25 aprile. Da venerdì alle ore 14 la parte iniziale di via Mazzini, quella che va dalle rive fino a via Imbriani, sarà interdetta appunto alla circolazione, quindi modifiche anche della Trieste e trasporti che fino a martedì notte sostanzialmente, quindi da mercoledì mattina riprende il percorso normale, ma vedrà la deviazione su via Valdirivo come abbiamo già avuto modo di vedere alcuni mesi fa. Divieto di sosti in alcune zone della città, quindi particolare e massima attenzione che chiediamo ai cittadini perché arriva questa manifestazione che porterà in città più di 200.000 persone e quindi cerchiamo di far sì che Trieste si presenti più bella e accogliente possibile. Corse dei bus modificate così come il percorso per gli automobilisti. Per qualche giorno i tristini dovranno abituarsi a itinerari differenti. Il resto via Roma e via San Speridione restano aperte, evidentemente ci sarà particolare attenzione sui divieti di sosta assolutamente impossibili e alcune zone di carico-scarico merci che vengono spostate. Anche Piazza della Repubblica, evidentemente come via Mazzini, sarà punto focale, quindi attenzione soprattutto a chi usa i mezzi pubblici. Qualche sicuramente difficoltà in più, ma vivremo un super ponte per la nostra città.